Torniamo in studio, Ancona Channel Gente di Mare con Davide Mondonico e Giancarlo Trapanese. Entriamo nel discorso Reggiana, una squadra che se si guardano i numeri fa tremare i polsi perché viene da sette vittorie consecutive ma sarebbero state addirittura dodici se non ci fosse stato il pareggio casalingo con l'Olbia quindi di fatto la Reggiana viene da una lunghissima serie di vittorie, questo 0-0 con l'Olbia piuttosto casuale che ha interrotto la serie ma adesso sono sette vittorie consecutive, 21 punti. L'Ancona nelle ultime sette partite dopo la sconfitta di Rimini però di punti ne ha fatti 17 che se ci fossero stati, come diceva Giancarlo, i due dilapidati con la Vis, non ce lo vogliano gli amici di Pesaro ma quella era una partita che l'Ancona ha dominato e con 18 occasioni da rete abbiamo contato insomma sarebbero stati 19 punti quindi state marciando quasi al ritmo della capolista capolista che viene sabato, ne parlate di questa partita? Sì ne parliamo però relativamente nel senso che stiamo facendo un bel percorso dopo la sconfitta di Rimini stiamo facendo tanti punti però noi più che alla Reggiana pensiamo a noi stessi pensiamo a come dobbiamo entrare in campo, come dobbiamo approcciare la partita poi pensare al mister come prepararla e quindi noi siamo tranquilli non vediamo l'ora di scendere in campo e io di seguirla da fuori purtroppo ma pensiamo che possa essere un punto di svolta cioè vincere sabato vorrebbe dire tanto quindi ce la metteremo tutta per far sì che questo accada Leviamoci questo dente tu vai a Montevarche con la squadra però Colavitto decide di preservarti perché tu avevi quattro cartellini gialli come è noto alla quinta scatta la squalifica quindi Colavitto decide di portarti in panchina schiera De Santis e Camigliano al tuo posto e c'è questo gol di tu sei tranquillo in panchina il mister non pensa nemmeno lontanamente di farti entrare per evitare il cartellino giallo succede che Melchiorri sciorina questo colpo di classe e tu come tutti i tuoi compagni in panchina esulti e poi? e poi l'arbitro mi ha munito però no allora ma avete esultato tutti siete entrati in campo tutti eravate 8-9 in panchina sì infatti sarà stato un caso avete fatto tutte le stesse cose non è che tu hai sì no no io sono entrato anche dopo ad altre persone mi sono messo dietro ad altri ma l'arbitro è venuto a cercarmi però allora mente lucida dopo un paio di giorni io posso dire che personalmente guardo sempre quello che potevo fare di più magari mi sono fatto prendere troppo dall'emozione e non dovevo andare a festeggiare con la squadra sapendo di questa cosa sarei dovuto rimanere magari col mister a festeggiare però non avrei mai pensato sinceramente che l'arbitro mi ammonisse ho capito che la cosa che avrei potuto fare era rimanere lì ma come io guardo a quello che potrei migliorare vorrei che anche diciamo gli arbitri o chi per essi guardino queste cose perché mi sembra un po' incredibile il fatto che su tutti abbia peccato proprio me però poi ci sono immagini che ti viene a cercare praticamente oh e altro particolare tu avevi la pettorina lui non ha l'arbitro il signor Madonia di Palermo non ha chiesto di come succede in questi casi di alzare la pettorina per vedere il numero sapeva già qual era il tuo numero non so cosa pensare sinceramente non voglio pensare male ma ripeto io sarei dovuto rimanere in panchina non l'ho fatto e purtroppo è andata così e tu così Mezzoni che diciamo un po' solidamente ha allontanato quel pallone sì io penso che queste sono cose istintive forse però insomma tu sei ammonito non devi sicuramente Francesco ha sbagliato penso che il fallo non ci fosse che l'arbitro abbia fiscato un fallo che non c'era però poi sicuramente lui ha sbagliato a calciare via il pallone sono errori che ci possono stare nel senso che comunque è un ragazzo giovane è giusto che sbagli che impari che non commetta più gli stessi errori come li ho commessi io che li commetta lui o chiunque altro l'importante è non ricommetterli beh devo dire a tuo onore e qui chiedo il conforto di Giancarlo che c'era stato all'inizio del campionato un paio di episodi si è stato espulso hai rimediato due cartellini rossi e tu in trasmissione hai detto ho imparato non lo farò più devo dire che da allora pochissimi cartellini comportamenti ineccepibili Giancarlo c'è un po' la sensazione certe volte però che questi arbitri soprattutto in Serie C un po' esagerino con i cartellini io vedo un numero mare di cartellini gialli guardavo i mondiali le partite finivano con due o tre ammoniti in effetti in effetti c'è questo ricorso eccessivo quasi un voler affermare l'autorità è un modo allora in genere gli arbitri in questa categoria sono arbitri emergenti sono arbitri che hanno bisogno di visibilità perché poi puntano alla crescita difficile che trovi in Serie C l'arbitro esperto che ha una sua almeno in alcune partite forse sì ma mediamente non lo trovi quindi trovi arbitri emergenti che come diceva lui possono sbagliare la cosa che io ho sempre notato e predicato è che il miglior arbitro è quello che tu non noti che è quello che cioè sa gestire la partita come faceva il mio insegnante di italiano che non ha mai messo una nota in cinque anni di liceo perché la sua posizione la sua capacità di tenere il gruppo era talmente tale non di autorità ma di autorevolezza per cui sapevamo già cosa fare ecco un arbitro capace è quello che noti meno è quello che non ricorre facilmente all'ammunizione beh certo in casi evidenti sì aver calciato lontano il pallone è automatico è automatico non c'è non c'è discorso però ecco nella circostanza al 94 segna un gol che chiaramente fa esplodere di gioia e anche nella natura del calcio capisco per carità a ragione lui non si doveva entrare non si doveva festeggiare però la capacità la saggezza della gestione di una partita transita anche perché ammonire un elemento della panchina che a partita finita non ha nessuna incidenza nella correttezza del match quindi sono cose sbavature che però sbagliano i giocatori sbagliano anche gli arbitri hai fatto un'analisi perfetta secondo me tra l'altro l'esultanza di Davide e degli altri non andava nemmeno a incidere sulla perdita di tempo perché lui poteva recuperare ulteriormente un minuto è il classico caso che il buonsenso dovrebbe prevalere sulla smania il calcio è anche gioia è anche esplosione di voglia di vivere quando si va oltre lo capisco però devi anche lasciare un margine giusto sì esatto questo era il caso del buonsenso secondo me Davide è finita due giorni fa la finestra di mercato invernale ad Ancona sono arrivati Camigliano Basso e Melchiorri sono andati via Bianconi e Berardi secondo te la squadra esce rafforzata da questa sessione di mercato? no sicuramente usciamo rafforzate abbiamo perso due giocatori oltre che bravi delle persone splendide e infatti gli auguro il meglio ma sì siamo usciti molto rinforzati anche a livello di esperienza e siamo contenti ci sono più soluzioni per il mister? sì molte più soluzioni la panchina è più lunga in partite bloccate magari con i cambi possiamo dare quella svolta che magari altre volte non potevamo dare e quindi siamo soddisfatti ecco Giancarlo anche mi aggancio alla tua considerazione sulla programmazione forse anche in questo nella gestione di questa finestra invernale del mercato con tre tre pedine scelte sembrano proprio mirate non sono giocatori tanto per prendere un difensore con certe caratteristiche che permette di giocare a tre un centrocampista come Basso che serve in determinati momenti della partita un attaccante come nel Chiorri quindi una scelta oculata assolutamente è questo che parlavo della capacità che raramente ho visto qui sulla piazza di intervenire di programmare scegliendo le persone giuste non andando a cercare le figurine panini o i personaggi ma andando a scegliere le persone giuste io ricordo tu lo ricorderai quando nella campagna acquisti venivano i kitting te lo ricordi e altri personaggi del genere che poi si rivela perché serviva il nome perché serviva di dar contentino alla piazza no qui vedo infatti una scelta programmatica mirata ad una logica che è costante e questo è un grosso un grosso vantaggio qualcosa che ci fa pensare che il programma sia serio ecco l'arrivo di Tiong proprio in coincidenza con la partita della Reggiana secondo te anche per la tua esperienza può essere una una formidabile motivazione in più per la squadra guarda io come sempre penso di sì però io credo che questa squadra riesca a trovare in sé le motivazioni al di là di quello che viene fuori io credo che questo sia un gruppo che sta crescendo mi dicevo prima è un gruppo nuovo che si è formato a luglio e poi a luglio e poi successivamente quindi sì indubbiamente la presenza del proprietario però così conoscendo un po' le dinamiche interne un proprietario che viene una volta ogni tanto secondo me non è in grado di imprimere la svolta si può essere un fattore positivo ma la svolta l'ho vista in campo l'ho vista negli atteggiamenti l'ho vista nel modo di stare insieme nel modo di fare pressing insieme ecco lì ho visto la svolta quindi le motivazioni ci sono ci saranno sarà un'aggiunta sarà un valore aggiunto ma io credo che la partita con la Reggiana sia un po' la partita di la cartina di tornasole di questa situazione la squadra sta maturando è maturata ha trovato i suoi meccanismi adesso si deve misurare con il meglio che c'è sulla piazza e credo che sarà comunque al di là di come finisca una bella prova e allora andiamo a vederla questa corazzata da vicino la Reggiana grazie al servizio di Andrea Verdolini dopo quanto vissuto lo scorso anno dove non bastarono addirittura 86 punti con appena due sconfitte in 38 giornate per vincere il campionato e per di più con il boccone amarissimo da digerire di essere sopra avanzati dai cugini del Modena la Reggiana è ripartita con nuovo slancio ed ovviamente con il medesimo obiettivo tornare in Serie B dopo la retrocessione del 2021 stessa la guida tecnica ai modiana ma forse con un atteggiamento parzialmente rivisto la squadra di quest'anno è decisamente meno pirotecnica ma forse cerca di vadare di più all'essenziale ed altronde i campionati si vincono anche se non soprattutto con le vittorie di misura quelle meno spettacolari ma che portano in dote comunque i tre punti l'organico è decisamente di alto livello e la rosa è profondissima consentendo all'allenatore soprattutto nel reparto offensivo numerose rotazioni per far rifiatare qualche pedina con il fiato corto considerando il tour de force imposto dal calendario qualche soluzione in meno comunque in difesa anche se Luciani Ristov Laezze e Cremonesi offrono le più ampie garanzie la sensazione comunque che si tratti di una compagine sicuramente attrezzatissima ma non irresistibile e che spesso ha sofferto le pene dell'inferno per risolvere gare anche con squadre di caratura decisamente inferiore insomma pronostico aperto ed anche legittima curiosità per vedere questa nuova Ancona contro la prima della classe forse meno spettacolare ma decisamente più concreta ecco Davide voi la reggiana l'avete misurata da vicino nella gara dell'andata io ricordo quella partita ero lì ricordo quella partita per il clima che c'era in sala stampa dopo è arrivato Diana e un collega di Reggio ha aperto la conferenza stampa con questa domanda mister le è mai capitato di vincere una partita senza tirare mai in porta molti rimpianti sì all'andata abbiamo fatto una bellissima partita purtroppo non si è riuscito a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto però rispetto all'andata sarà una partita ricordiamo il tuo gol di Simonetti dopo 8 minuti e poi palla sempre a Lancona e Reggiana con 11 effettivi dietro sotto palla sì loro arrivano da una brutta sconfitta con il Fiorenzuola quindi penso che quella di sabato sarà una partita totalmente diversa loro sono cresciuti noi siamo cresciuti quindi non vediamo l'ora di confrontarci contro la prima in classifica se potessi togliere un giocatore alla Reggiana chi toglieresti chi squalificheresti per pareggiare l'assenza di Mondonico ma in questo momento penso che Pellegrini stia facendo molto bene me lo ricordo anche all'andata un bel giocatore Pellegrini causò l'esplosione di De Santis furbescamente furbescamente no? sì non c'era anche quello non rimaniamo su queste cose e quest'anno con gli albi non siete stati particolarmente fortunati non c'era anche per noi però c'era una volta una teoria Giancarlo che piaceva soprattutto a chi aveva l'acqua che gli andava per l'orto come si suol dire che a fine campionato torti e favori si compensano è così? dovrebbe dovrebbe essere così voglio pensare che sia così perché altrimenti staremmo a parlare di cose che non non appartengono a questo mondo parliamo di sport e quindi deve essere così ripeto ci possono essere gli errori sbagliano gli arbitri sbagliano i giocatori però a fine anno dovrebbe esserci una compensazione io mi auguro e spero e ho sempre creduto in tanti anni in cui ho seguito il calcio che questa sia la regola della situazione ha ragione lui alla fine ci dirà bene qualche altra cosa lo speriamo e tra l'altro questa reggiana Giancarlo l'anno scorso ha duellato con il Modena fino all'ultima giornata lì poi il Modena l'ha spuntata addirittura come ricordo il gol del portiere del Modena che ha deciso contro l'Olbia che ha deciso il campionato si può dire ecco diceva Andrea nel servizio quest'anno è una reggiana più operaia però forse più pratica esatto sì forse fra le due squadre quella dello scorso anno era nettamente più forte secondo me anche più poi basta vedere il numero di punti che ha fatto insomma questo è però però quest'anno è più concreta questo è sicuramente ha ceduto qualcosa sul piano forse tecnico guadagnando qualcosa sul piano della fisicità e del movimento in campo quindi sì è una squadra difficile da affrontare però giustamente diceva Verdolini mi pare che giochino in undici e che non ci siano questi questi mostri e questi fenomeni insomma e quindi è una squadra sulla quale una squadra molto forte che va affrontata con la serenità di dire che qualunque cosa vada si è fatto il massimo Davide però quella partita di Reggio mi diceva qualche tuo compagno è stata importante anche se l'avete perso perché lì forse avete avuto la consapevolezza di essere una squadra forte sì lì abbiamo capito che comunque potevamo giocarcela con chiunque come sempre dopo le partite capiamo gli errori che commettiamo e miglioriamo per crescere l'abbiamo fatto contro la Reggiana l'abbiamo fatto in tutte le partite che abbiamo fatto fino adesso e continueremo a farlo quindi stiamo diventando sempre più squadra questo è l'importante da prescindere da come vada sabato Colavitto qui in questo studio un mesetto fa 20 giorni fa ha detto 20 giorni fa ha detto io ai miei il 2 gennaio ai miei giocatori ho fatto un discorso ho detto la Reggiana è 11 punti avanti non dobbiamo smettere di pensare di poterla raggiungere chiaramente è un discorso fatto motivazionale diciamo certo ma questo ci spinge anche a pensare che ogni partita è decisiva ogni partita non possiamo permetterci di sbagliarla perché comunque loro corrono e noi dobbiamo correre come loro infatti il rullino di marcia lo dice bene che stiamo andando stiamo facendo più punti possibili sì ne abbiamo persi magari un paio con la Vispesaro però siamo siamo sul pezzo e quindi dobbiamo solo continuare così Interle e Cesena le vedete più vicine Interle e Cesena sono lì anche loro devono venire al Delconero devono venire al Delconero anche loro tutti i scontri diretti li abbiamo qua quindi siamo molto contenti di poter affrontare queste partite in casa con tutto il nostro pubblico incide il pubblico dell'Ancona sì sicuramente ci dà sempre è una carica a Montevarchi anche ovunque infrasettimanale con 200 tifosi è stato incredibile come cosa ci ha sempre sostenuto sia nei momenti magari all'inizio dove andavamo meno bene ma comunque era tutto un fatto di conoscerci come adesso quindi non si fanno sempre sentire ascolta con la Vitto il marchio di fabbrica è il 4-3-3 però ha cominciato a Cesena con la difesa 3 dove tu c'eri non ci sarai sabato pensi che potrebbe scegliere visto l'assenza tua e di Mezzoni potrebbe scegliere ugualmente con una difesa 3 questo non lo so cosa avrà in mente il mister io la cosa che penso principalmente è che a prescindere dal modulo è sempre l'atteggiamento e il modo in cui tu scendi in campo che possa essere 3-4-3 o 4-3-3 quello cambia cambia relativamente Fantoni come lo vedi? bene Nicolás è un bravissimo ragazzo è un bravo difensore si allena sempre al massimo lui come anche Barnabà si è sempre fatto trovare pronto e sono molto contento di essere un loro compagno pensi che lui possa reggere il peso psicologico di una partita come questa con la Reggiana pensi che sia pronto Fantoni? sicuramente se dovesse scendere in campo si farà trovare pronto lui come come chiunque Giancarlo si parla tanto io spesso anche in radio la prima domanda che fanno i tifosi quanti biglietti sono stati venduti si parla tanto del fatto che c'è questo zoccolo duro che viene al Delconero bisogna riconquistare quella fascia di tifoseria media che affollava il Dorico come tu ricorderai purtroppo qui credo che paghiamo gli anni dei fallimenti gli anni dei direttanti che cosa un consiglio alla società per avvicinare di più la città alla squadra io credo che possiamo fare anche i salti mortali ma nel calcio vale solo una cosa quando vinci hai il pubblico quando non vinci il pubblico si allontana è una regola poi lo zoccolo duro e quindi lo zoccolo duro io ricordo i 10.000 a Bologna in occasione della prima promozione in Serie A è chiaro 10.000 persone che vanno a Bologna direi che è una cosa che non si è mai vista in una città di 100.000 abitanti insomma quindi è evidente che quando tu hai lo stimolo il pubblico risponde ma è una una legge inevitabile c'è però da dire che c'è questo zoccolo duro della tifoseria anconetana che invece qualunque sia stata la serie qualunque io ricordo a degli amici ad Ancona che andavano a vedere le partite in veramente a livello sarebbero disposti ad andarci anche in seconda categoria o in prima categoria insomma ecco questo perché abbiamo vissuto anche anche queste esperienze anche questo abbiamo vissuto anche queste esperienze quindi è evidente che il pubblico c'è l'amore c'è il ricordo di certi momenti unici nella storia anche di una società pensi che ecco sono due o tre mi pare le squadre di serie B che hanno fatto una finale di Coppa Italia mi ricordo un Palermo-Napoli e forse un'altra squadra che nei anni precedenti fece la finale di Coppa Italia ecco quell'entusiasmo quella voglia io ricordo il ritorno da Torino in una semifinale di Coppa Italia in piena notte con un Raffaello Sanzio gremito di tifosi di gente che esultava quando Guerini disse li abbiamo chiusi nella nostra metà campo e non li abbiamo fatti uscire perché fu un assedio però l'entusiasmo quel momento così importante era in tutta una città era quando Ancona Livorno San C la promozione dalla C alla B io feci la telecronaca facevo il servizio per Rai 3 feci la telecronaca della partita dallo stadio Dorico alla sede Rai credo aver messo un'ora e mezza perché la gente mi fermava per strada e ritorno alle 4 di notte quindi quando l'entusiasmo c'è è chiaro che porti il pubblico quando non c'è l'entusiasmo puoi contare però su questa fidelizzazione di un gruppo forte perché i 200 che vanno a Montevarchi significa qualche cosa qualche cosa siamo in chiusura prima dell'ultima domanda a Davide Giancarlo fai un bellissimo programma secondo me sono affezionato e cerco sempre di guardarlo quello delle favole nonno racconta nonno racconta ti sei inventato questa questa formula perché poi non è mai la favola ma è è qualcosa in più ecco c'è una favola che accosteresti a questo momento dell'Ancona adesso guarda io ti dico una cosa le favole che racconto molte sono state scritte da me quindi la gente non le conosce e quindi direi che è difficile fare un paragone con quelle nuove vorrei fare un paragone con una favola che la gente conosce che io ho riscritto che è il brutto anatroccolo mi piacerebbe pensare che questa questa Ancona partita male allora poi la fusione col Matelica eccetera che era un brutto anatroccolo all'epoca diventi il cigno stupendo e non a caso Melchiorri e il cigno è perfetto hai fatto un collegamento perfetto chiudiamo con la classica domanda che faccio a tutti i tuoi colleghi dovendo scegliere un tuo compagno di squadra come uomo del match di Ancona Reggiana chi sceglieresti? Mario Prezioso Mario Prezioso benissimo con questo auspicio a cui ovviamente ci uniamo e con la certezza che sarà una bellissima partita andiamo allo stadio sabato ore 17.30 Ancona Reggiana è tutto per questa serata di Ancona Channel noi ci ritroviamo con Ancona Channel di Gente di Mare alle 21.30 di giovedì prossimo ringrazio Giancarlo Trapanese per essere stato con noi insieme a Davide Mondonico eppure ringrazio come ringrazio la società per averlo messo a nostra disposizione grazie a tutti grazie a voi per l'attenzione a risentirci a giovedì prossimo Ancora Guerrini Guerrini si avvicina all'aria passa Quadrelli cross di Quadrelli Tamario diventa gol gol Gente di Mare che se ne va dove gli pare Montervino pericolosamente prova in Lettino Ventura c'è il gol di Ventura incredibile gol di Ventura al centodiciottesimo la gente di Mare va in collaborazione con Compra e Vendi Casa con Brocay da oltre 20 anni Brocay seleziona i mobili di pregio ad Ancone e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze come questa villa singola ad Ancona dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero composta da due ampie unità abitative per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa vieni negli uffici di Brocay ad Ancona Falconara e Camerano o visita il sito brocay.it insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti a Senigallia la realtà del resort è Finisafrica hotel ristorante sale per convegni e congressi inoltre centro olistico campi da tennis piscina semiolimpionica e tanto altro a Finisafrica la tua cena aziendale la tua festa la tua cerimonia in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi come a bordo piscina il giardino segreto e la nostra sala pagoda chiamaci riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda dal design originale e con alta qualità dei materiali sempre in linea con le nuove tendenze propone modelli che rispecchiano ogni stile per la sposa e lo sposo collezioni sartoriali made in Italy brand europei e internazionali così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia donna uomo e bambino adatti ad ogni evento se volete uscire dagli schemi Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante Atelier Anacleti Aiesi in via Muro Occidentali 5 Vieni a scoprirci in piazza Pertini ad Ancona e approfitta delle migliori offerte per allenarti con noi e appienessi e appienessi a a Grazie a tutti.